Il modus operandi era sempre lo stesso? È un modus operandi che si è evoluto con il tempo. Inizialmente con una semplice bicicletta giravano per la città e colpivano i cassonetti o le autovetture che reputavano, in base alla loro volontà, colpibili. Poi hanno iniziato a rubare l'autovettura, girarci durante la serata per commettere diversi tipi di crimini e alla fine bruciare l'autovettura per coprire ciò che avevano fatto. Man mano sono arrivati addirittura a compiere dei furti e quindi all'interno di un vivaio ad Acilia dove avevano sportato diversi macchinari, prodotti del vivaio stesso per poi dare fuoco al vivaio. Quindi immaginate che danno ha dovuto subire questo esercizio commerciale. E poi hanno iniziato a coprire veri e propri esercizi commerciali. L'ultimo fra tutti a giugno sono stati arrestati in fragranza di reato dove avevano con sé ben 6.000 euro che erano riusciti a trovare all'interno dell'esercizio. Quindi alla fine di tutto la macchina che avevano utilizzato poi gli davano fuoco. E quindi se parcheggiavano vicino ad altre autovetture immaginatevi il danno che potevano creare anche per i poveri cittadini che avevano parcheggiato l'auto inconsapevolmente la sera e la ritrovavano bruciata il giorno dopo. Non avete individuato un disegno criminale, bensì una patologia? Sì, non abbiamo trovato alcun disegno criminale, bensì una patologia. Non comprendevano il disvalore delle azioni che stavano commettendo. Un disvalore sociale ben importante sia dal punto di vista valoriale che dal punto di vista economico per i cittadini che si ritrovavano magari inconsapevolmente a parcheggiare vicino a un cassonetto dell'immondizia e ritrovare l'auto bruciata il giorno dopo. Grazie a tutti.